Da non credere, è possibile che un caio del decimo universo abbia la stessa aura di Black? Di un po' Trunks, Pan, la bimba di Gohan non è uno splendore? Sì, hai ragione, Gohan ha una famiglia davvero stupenda. Sai, anche io sono diventato papà di una femminuccia, ha già un caratterino. Che cosa ti sei sposato anche tu? Ma che bella notizia! Sì, proprio così. E dimmi, che aspetti, perché non mi presenti tua moglie? Mia moglie, beh, diciamo che... Coraggio, parla, scommetto che è qualcuno che conosco. È da molto che non ci vediamo, Trunks. Androide numero 18! No, Trunks, aspetta un momento, non c'è pericolo, cerca di calmarti. È lei, mia moglie, C-18! Ciao, papà! Maaron, piccolina, sei ancora sveglia? Sì, sì. Numero 18, che ci fai tu qui? Non ti ho visto tornare e mi sono preoccupata. Scusami, sono successe molte cose nel frattempo. Ma quando si sono conosciuti... Eccoti qui, Trunks. È vero quello che si dice? Pare che nel tuo mondo tu mi abbia eliminato. No, aspetta, ti posso spiegare. Vuol dire che è arrivato il momento di presentarti il conto. Ti ho preso in giro, stavo scherzando. Ma che cosa? Ma allora C-18 è... Vado a vedere che cosa fanno mia madre e gli altri. Perché hai scappato così all'improvviso? Allora... Vado a vedere che cosa fanno mai la scuola.